La degustazione di oggi si è svolta in base a un antipasto che abbiamo sviluppato con salame Napoli cotto ripieno di ricotta aromatizzata al basilico con mortadella grigliata in un letto di rucola servita con una goccia di balsamico e due tipi di pecorino, uno più stagionato, l'altro meno stagionato una cacciotta con pezzi di peperoncino all'interno. Questo l'abbiamo servito con un aglianico d'ambra 2012 di ischia poi siamo andati a seguire con un falerno doc, l'abbiamo servito con un maccarone con provola, porcino e salsiccia una tagliata rucola, scaglie di parmigiano e paghino sempre con una goccia di balsamico servito questo con un moio 57 della cantina moio ovviamente, un dolce fra una panna cotta, frutti di bosco o cioccolato o un semifreddo all'amaretto sempre cioccolato o frutti di bosco. Questo servito con un barolo chinato and there is nothing for me about to love you and the way you look tonight and there is nothing for me.